Ciao a tutti ragazzi, qua Dexta e oggi sono qui con questo nuovo video su GT5 Online E oggi siamo qui con nuove regole rampe, con le moto ragazzi Abbiamo queste moto qui enduro, veramente molto particolari 3 di 1 e partiamo subito, ovviamente abbiamo il casco Allora qui ragazzi, insomma, dovremmo fare a quanto pare un wall ride con le moto Qualcosa di incredibile, andiamo, andiamo, dai, dai Dai che stiamo iniziando, forse non ho mai fatto ragazzi un wall ride in moto, non lo so Allora lì c'è il checkpoint e andiamo avanti Al primo tentativo siamo riusciti a farcela, dai, è stato piuttosto facile, pensavo più difficile Saltiamo, ok, comunque abbiamo 3 giri, sarà veramente, penso una bella gara Andiamo, 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 potenza, potenza impennando e il super sorpasso No, sono morto, sono morto prima del checkpoint Vabbè ragazzi, ok, sono morto prima del checkpoint E va bene, queste gare ogni volta devono scherzare, andiamo Ok, questa volta abbiamo preso Cioè ragazzi, io avevo fatto un sorpasso praticamente epico Ma sono morto, vabbè, non ci sono spiegazioni Andiamo avanti Possiamo però recuperare, possiamo recuperare Il salto qui, checkpoint preso, mamma mia Poi la moto fa veramente uno strano movimento Che rischia quasi di farmi poi andare giù Saltiamo qui, perfetto E prendiamo il checkpoint, avanti Ci sono tutti questi wall ride qui praticamente Non, cioè, piuttosto semplici Andiamo, andiamo, andiamo Vai così, prendi il checkpoint Perfetto ragazzi Il movimento che fa dopo è veramente, veramente brutto Perché sembra che stia quasi per cadere giù Allora, dai che recuperiamo Avanti, siamo in quinta posizione Vai, impennando Dovremmo riuscire a fare qualcosa ragazzi Vai, velocità, velocità Velocità, andiamo Dai che adesso ci sarà sicuramente il secondo giro Prendi un po' di scia Andiamo, 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 andiamo Ok, siamo al secondo ragazzi Quarta posizione Possiamo farcela Salta Oh, che checkpoint preso Dai, questi qui Questo dovrebbe essere il secondo E' il terzo giocatore Andiamo, andiamo, andiamo In penna, in penna Vai, sorpasso come prima Sorpasso Uh, quello voleva colpirmi Andiamo Ok Incredibile Siamo in seconda No, adesso in terza Vabbè, il primo è qui ragazzi Ce la possiamo fare Avanti Andiamo, 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 andiamo Dai, prendi un po' di scia Guarda quello che mi spinge nel wall ride Un po' di scia ragazzi L'incredibile sorpasso Quello è caduto giù Incredibile L'ho ridotto in poltiglia No, fantastico ragazzi Vabbè, ci sta Perché loro mi hanno fatto morire Mi hanno fatto morire Prima inizio gara Quando ero in prima Praticamente Quindi ci sta Adesso però sono tutti dietro Che si ammazzano Tra di loro Andiamo Mamma mia Gare incredibile Vai, vai, vai Velocità Dai che possiamo farcela Dai che non mi prendono Salta qui Ok Checkpoint preso E si continua Si continua No, veramente stupendo Sono dietro di me Sono dietro di me E vabbè Mi superano per forza Con la scia Quello mi stava finendo in testa Cazzo dai Adesso siamo di uno in prima Ultimissimo giro ragazzi Vediamo un po' Ok Terzo giro Che è l'ultimo Mamma mia Quello Per pochissimo Non l'ho colpito E andiamo Avanti Dai che Ecco Quello lì mi ha fatto morire Forse è morto pure lui Spero di si Siamo in seconda ragazzi Dai, 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 dai Adesso terza, quarta È morto o non è morto? Penso di si ragazzi Siamo in seconda Guarda come mi spingono Via, via No, non ci credo Dai, siamo ancora qui Siamo ancora qui Incredibile Salta su Arriva al checkpoint Ok ragazzi Ce l'abbiamo fatta lo stesso Mamma mia Purtroppo ti colpiscono Lì nel wall ride E si muore Non c'è Non c'è pietà per nessuno Dai che recuperiamo Prendiamo un po' di scena questo Dai che possiamo farcela Ultimissima rampa ragazzi Il primo è qui Il primo è qui Avanti, avanti Corri, corri, corri Dai che siamo qui Dai che ti supero Dai che ti supero Checkpoint preso ragazzi Ok ce l'abbiamo Non è caduto giù Andiamo, andiamo, andiamo Andiamo Siamo in prima Siamo in prima C'è l'ultimissima parte qui No, sono morto Vabbè ragazzi Non so cosa fare Non so più cosa fare Adesso lui concluderà Perché ovviamente io sono morto Ovviamente Cioè lui mi ha dato un colpo Devastante Ed è rimasto vivo Io invece sono morto E niente da fare Ha concluso Vabbè concludiamo ragazzi In seconda posizione Purtroppo devo essere sempre trollato Va benissimo Non so Cosa dovevo fare Più di così Avevo fatto un recupero Fantastico E poi lui mi ha colpito Così E la cosa assurda È che lui Non si è minimamente mosso Comunque gara Molto bella World ride in moto Veramente fantastico Adesso ne andremo a fare un'altra Rieccoci qui Adesso abbiamo le BMX Il mio personaggio Ha gli occhiali Cioè il casco Con dentro gli occhiali Bellissimo proprio 3, 2, 1 E andiamo Partiamo subito Allora qui ci sono Una serie di ramp Container Io ovviamente sono già andato fuori Riproviamoci Riproviamoci Vai dentro Ok Cioè questa volta sono morto Perché un altro era morto Andiamo adesso Ok ci siamo Vediamo un po' il checkpoint È lì Salta Perfetto ragazzi Ce l'abbiamo Allora fermati Dobbiamo ritornare Saltiamo Vai vai che ci siamo Salta adesso qui E si continua ragazzi Per i container Eh qui però C'è un casino No sono morto E niente Ovviamente andando contro gli altri È molto Molto complicato Salta qui Dai Dai che adesso non c'è nessuno No non è vero Non è vero C'è sempre qualcuno Vai salta Dai che ci siamo Ok ragazzi Finalmente siamo riusciti a passare Arriva il checkpoint Senza fare scherzi Super salto Ok ce l'abbiamo fatta Però devo ricomparire Perché purtroppo Dobbiamo andare su Eccoci qui Saltiamo BMX Senza fare scherzi Vai qui giù con calma Altro checkpoint preso No comunque una gara Abbastanza Abbastanza semplice Il fatto è che ovviamente Con gli altri È sempre un casino Qui c'è una grandissima rampa Vai 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 Andiamo 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 C'è un container L'abbiamo preso Il salto ragazzi Che cazzo fa quello Cioè quello è saltato Ovviamente mentre passavo io Piccolo salto Ok Questa parte L'abbiamo superata E andiamo adesso giù Comunque tra pochissimo C'è gente che già conclude Quindi Dovremmo avere il traguardo ragazzi Tra poco Vai checkpoint Ok Questo l'abbiamo preso Salta giù Eccolo qui Ora moriremo Probabilmente No non è morto Miracolo Miracolo ragazzi Gare estremamente semplice Allora qui abbiamo preso la rampa Salta salta Ok checkpoint preso ragazzi Checkpoint preso Dov'è il traguardo? Non lo so Non lo so Ok Adesso manca l'ultimo checkpoint E dopodichè c'è il traguardo Saltiamo Checkpoint preso Qui mi sono bloccato ragazzi Allora Superiamo questa parte ragazzi E concludiamo questa stranissima gara Veramente Allora adesso siamo in quinta Posizione Vai qui Andiamo 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 Il traguardo ragazzi è lì Andiamo Concludi Salta Ok ce l'ho fatta Ho concluso sbattendone al muro praticamente Mamma mia Cos'è Veramente stranissima È stata una gara ragazzi Troppo Troppo semplice Soltanto la prima parte Era un po' complicata Perché ci scontravamo con gli altri Nello stesso percorso Però poi alla fine ce l'abbiamo fatta Senza Senza troppi problemi Veramente semplicissima Adesso ne andremo a fare un'altra Altra gara Adesso abbiamo le moto Cioè non abbiamo Purtroppo veicoli modificati In queste gare qui Non c'erano veicoli modificati Oltretutto Non sapevo che ci fosse Quella Kuma Mi aspettavo L'abbati Non lo so Partiamo subito Andiamo ragazzi Vediamo un po' Vediamo un po' Cosa riusciremo a fare Allora Qui dovremmo avere un parkour Estremo Io sono già morto Mi sono schiantato In maniera brutale Nel muro Dovremmo avere un parkour Molto molto difficile Almeno da quel che c'era scritto Nel social club Andiamo Guardate come saltano gli altri Vai velocità Andiamo a Kuma Mamma mia ragazzi I sorpassi Impennando Altro checkpoint Attenzione Qui moriamo Uh no Invece siamo ancora vivi Siamo ancora vivi Arriva il checkpoint No niente da fare Sono caduto qui Nel laghetto Prendiamo queste rampe Adesso con calma Poco fa Avevo troppa potenza ragazzi Ok Checkpoint preso Saltiamo qui Senza nessun problema Questi che cazzo sono Macchinari Non lo so Andiamo Vai Prendi il checkpoint Mamma mia Sbattuto Sbattuto Salta qui Checkpoint Preso Ok ragazzi Mamma mia Al limite Al limite Allora adesso dobbiamo risaltare No Siamo andati fuori Di nuovo in questo cazzo di laghetto Saltiamo Vai Fermati Fermati Ok si è fermato Per fortuna E ci siamo Dai Allora adesso dobbiamo salire qui E andiamo Dai Che c'è No di nuovo Di nuovo nel laghetto Appena siamo un po' più di velocità Non No Come sono morto qui Non si sa Non si sa Appena siamo un po' più di velocità Andiamo Andiamo in quel cazzo di laghetto Quindi Veramente sempre una trappola Allora Dai ce l'abbiamo fatta Salta adesso qui Ok C'è il checkpoint Dovremmo prenderlo Senza problemi Andiamo Come il salto Checkpoint preso ragazzi Dai siamo in seconda posizione Non male Fermati Fermati Mamma mia Con calma Con calma Salta adesso qui O che parte superata Uuu C'è rendetevi Lì cosa ci sono Delle gomme Ci sono delle gomme Nel lago Allora Giriamo la nostra moto Ragazzi Questa gara Sembrava più semplice Non lo so Guardate qui Guardate qui Ho frenato un attimo E la ruota è andata A bloccarsi Tra i due Tra i due Piccoli tronchi Non lo so Sono veramente fregato Vai Fermati Niente da fare Niente da fare Adesso non posso più sbagliare Vai qui Con calma Fermati Fermati Ok nel primo ci siamo ragazzi Il secondo ha concluso Andiamo in questo Ok ci siamo Ci siamo Vai qui senza sbagliare Perfetto Checkpoint preso Mamma mia Finalmente ce l'abbiamo fatta Allora qui abbiamo L'ultima parte Vai con calma Uuu Ecco Altra parte assurda Altra parte assurda Comunque siamo in terza posizione Dopo 8 minuti Allora proviamo a fare Un qualcosa di strategico Tipo subito Arrivare subito lì Andiamo un po' Salta Andiamo Stai fermo Stai fermo Stai fermo No sono andato giù ragazzi Mamma mia Però stavo quasi per funzionare Salta 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 Dai che siamo qui Concludi Ok ragazzi Terza posizione Utilizzando le strategie Perché altrimenti Anche per quella parte lì Non so quanto tempo Avremmo perso Veramente non lo so Comunque si Ce l'abbiamo fatta Abbiamo concluso questa gara E niente È stata Probabilmente la più difficile C'era quella parte Dei piccoli tronchi Che era insuperabile Sembrava facilissima Ma non lo era Tutti cadevano lì Anch'io cadevo Ragazzi non so La moto Sbandava all'improvviso Che dire Spero che il video vi sia piaciuto Abbiamo giocato Tre gare con le moto Quedexta Lasciate un bel mi piace E ci vediamo Al prossimo video